insetticide raga mezzo morto adesso vabbè allora inizia a darmi la cura ciccia visto che ti ho salvata primo secondo secondo qua è un casino che rotture di coglioni sto provando di mettermi in pari vabbè insetto di merda è andato qua devo girare anche l'altro il dispositivo ha terminato ha terminato non c'è più bisogno non c'è più bisogno lo decido io brutto piccio però tendenzialmente noi adesso abbiamo sta chiave fammi fammi esaminare sta chiave chiave del fuoco quindi praticamente adesso possiamo aprirci tutte le porte del fuoco dovremmo fare del backtracking quindi io direi che ci stiamo dove andiamo perché qua abbiamo più porte rosse da provare a controllare io direi tu stai guardando la mappa istituto primo piano? io sono nella mappa e sono cioè dove c'è sono le scale no guarda la mappa guarda la mappa ok istituto primo piano molto bene allora io guardando la parte sinistra della mappa in fondo a un corridoio ho una porta rossa vogliamo provare sì sì vogliamo andare a vedere lì ok proviamo ad andare a vedere lì molto bene allora mi equipaggio solo la pistola con lui e lei la lascio soffrire io mando avanti lui così c'è un problema c'è un problema qua fuori c'è un leaker della madonna allora io vado in fuoco eh boh facciamo così andiamo a vedere se la porta è giusta no ma c'è eh mi ha schivato eh allora guarda guarda ascolta me quella porta lì non c'è serratura c'è l'immagine di un orologio ma non c'è serratura quindi stiamo andando nel posto sbagliato io ricarico la partita ma proprio spudoratamente c'è il rumore sordo del cazzo sulla mochetta vai avanti allora niente porta a destra andiamo aspetta aspetta che io qua ah la chiave però ce l'ha la chiave di istituto ce l'ha ce l'ha lei cioè io ce l'ho con lei eh mi ha dato a due guarda lì che c'è Gesù Cristo se cammino piano niente si sveglia c'è un altro troia aspetta 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 io devo andare di qua ta 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 e chi usa la porta è decorata da un simbolo del fire Gina ok hai usato la chiave del fuoco pazzesco ma mi sto arrivando mi sono solo fatto dei cambi fatti dei cambi quindi sei andato a destra sulla due porte esatto nella mappa vai a destra ti ricordi che c'era la cucina chiusa con la porta rossa sì sì esatto adesso possiamo andare quelli avevamo ammazzati mi mince sono senza munizioni con lei no io non avevo ammazzato nessuno io ho dei cristiani vivi eh pure io convinto che avevo ammazzato vivi sempre detto in modo molto loose allora qua ok sono entrato anch'io un'ampie gamba di spezie e condimenti allora eh ci facciamo una pasta cos'è qua ah liquido per accendire raga qua c'è scola messo su un sugo come al solito eh come al solito qua però ah bottiglia vuota chiaramente bottiglia penso che sia per le molotov esatto liquido per accendire la bottiglia vuota bisognava combinarla con io l'ho presa poi l'abbandona mi sembra non mi ricordo io non ci credo che qua c'è solo sta roba però sai che sembra proprio di se no eh ma a me non mi sembra una puttanata perché già che qua non te lo diceva quando avevi trovato tutti gli oggetti ma io vi faccio un giro perché non vorrei mai una gamma di spezie e condimenti qua c'è una porta prendiamo del cardamomo quindi qua niente non c'è più un cazzo dove c'è una porta scusa no no è una finestra ho provato ad andare contro la finestra no no niente quindi fammi rivedere la mappa questo lavandino ha perso la lucentezza di un testo esatto raga perché non hanno usato il quadro è il coso il via caldo caldo vediamo dove fammi vedere un po' ho delle bottiglie vuote devo fare ah facciamo così facciamo una corsa all'atrio un attimino sì che io mollo le bottiglie tanto è qua vicino e poi in realtà dobbiamo provare a proseguire di lì dove dove c'è quel tipo in piedi esatto faccio una corsa contro quella porta e via vai muoviti muoviti e vabbè 25 raga come si spara vabbè adesso siamo calmi quando mi appello niente lei stava aggrapando malamente io sono arrivato non sono ancora sceso giù insomma è che Beppe se ci mettiamo a sprecare le azioni qua io sto andando verso giù allora dove c'è la cosa giù non mi ricordo cosa c'era qua aspetta voglio aspetta aspetta forse qua ce l'avamo andati ah qua si saliva ok si 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 va bene serve un cazzo vedo non mi serve no perché qua si saliva con la scaletta se ti ricordi che andavamo al piano di sotto allora niente andiamo pure dove c'è scritto giù per me andando giù qua ci sono dei delitti delle robe che non abbiamo punizioni se ci sono no ma qua c'è del gas esatto qua c'è scritto dal vapore e adesso? e adesso dobbiamo andare per il piano di sopra ah c'è una porta rossa proprio al secondo piano ah si esatto a destra andiamo a vedere a destra dice poi un corridoio circolare bestiale questa la porta è chiusa ma non ha serratura immagine di un orologio niente neanche qua quindi non qua però sempre sul lato destro vedi che c'è porta gialla porta gialla porta rossa vediamo con tutta una nuova area si 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 andiamo là andiamo qua minchia spero che li ammazzati tutti perché qua se muori è una rottura di palla l'hanno salvato l'hanno fatto no no ma che cazzo dici ok di un dio ah poi qua ci sono delle scale che chissà dove cazzo vanno ma io voglio andare qua a destra e la prima porta che incontriamo ok qua c'è solo Ezio Auditore no ma questa c'ha la serratura dell'acqua e mi hai spaccati i coglioni ma quindi sta porta di madonna e niente quindi dobbiamo andare al lato sinistro sempre secondo piano che bordello qua ci sarà come minimo qualche faccia di cazzo anche perché sennò diversamente io non so dove cazzo dobbiamo andare no penso che sia l'unica in cui dobbiamo andare anche perché non so altre porte allora io ne ho trovata una in fondo in fondo ah ok che cosa è che dico io che dicevamo prima è chiusa la stai aprendo ah si aspetta che devo cambiare con lei aperta è usato la chiave del fuoco non hai più bisogno di queste chiave un po' una ce n'era due due porte va bene da un lato è un bene perché così non dobbiamo impazzire però fammi riequipaggiare ma tipo poi per forza che uno dice lei è stupida e muore lei perché non ha la pistola equipaggiata e sta andando a mani nude sta demente non lo spieghi cretina del cazzo eh io non ho munizioni con lei quindi ah sto entrando equipaggiare coltello sta andando è una versione low poly della porta che si apre mi piace attenzione allora qua c'è una musica devastante ma non vedo bestia che comunque no 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 aspetta scendi giù scendi giù stai caldo stai caldo attenzione qua potrebbe esserci la roba interessante questa forza è pure un anziano ricercatore nei suoi un ponte in costruzione un anziano ricercatore nei suoi studi va bene però esploriamo bene tutto qua niente devo per forza saltare di là e saltiamo di là va bene qua cosa ho trovato munizioni parabellum bravo poi perché non scende se sto sotto un tavolo ok attenzione attenzione diario del vice direttore 2 settembre nient'altro che un mucchio di apprendisti incapaci come al solito ma dove li trovo la direzione degli idioti del genere stavolta però un paio di tipi in gamba ci sono quindi non posso lamentarmi più di tanto William e Albert Albert come minimo è Wesker William ti ricordi il nome del coso del 2 non mi ricordo il cognome William Birkin 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 era lui sono certo che faranno strada 25 settembre Willy intellettuale e Ali il pragmatico al quattro dite sono davvero l'uno opposto dell'altro e sono in costante competizione qualsiasi cosa facciano c'è qualcosa di spietato e crudele in tutti e due 7 ottobre ho ricevuto una telefonata dal direttore desidera che incoraggi la rivalità tra quei due è pazzesco è la prima volta dall'apertura di questo centro di addestramento che il direttore Marcus ha mostrato interessi in qualcosa che non siano le sue ricerche ad ogni modo devo adeguarmi perché gli ordini sono ordini raga aziendalista farò in modo che giungano presto afferri corti allora qua delle munizioni le do a lei che tanto adesso la metto su in attivo poi c'è una porta di però lei non scavalca hai notato scavalca solo lui no 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 lei ha scavalcato da me ho sbaglio wait te lo dico da un attimo perché non posso scambiare? ah perché lei è lontana e non ha scavalcato manco a me? hai ragione ma adesso la faccio scavalcare io ma a mano ah dici che l'ha fatto a mano eh l'ho fatto infatti così buona minchiata però va bene ragazzi allora scambia e gli do a lei le colpi gina levati però ah wait te lo dico io qua bisogna spostare il tavolo? si può spostare il tavolo e come lo sposti? eh boh io lo spingo fino in fondo ah lo spingo anch'io ah no però se faccio così non posso più premere il pulsante attenzione andiamo a premere il pulsante perché lì c'è anche qui c'è un interruttore azionarlo azionarlo si ah ci sono accese le luce pazzesco poi? alla fine ah però c'è una cosa nella corna dell'alce lì appeso eh però raga adesso bisogna andarci col tavolo si 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 guarda c'è una roba ho capito però come si sale? ok vediamo un po' con x si però se non ci arrivavi già con il tavolo come facevi a però non me lo fa prendere perché? perché probabilmente devo spingerlo ancora di uno scendi giù spingerlo ancora di uno ok vai di su vai di lì tanto qua lavori pesanti tutti a me poi spingi le io ho fatto tutto un metodo ma comunque ce l'ho fatta aspetta devo salire sembra esserci qualcosa ago de ferro dove andava messo? andava messo in un orologio come minimo però dove? ah c'era un orologio per salire cazzo prima del boss ti ricordi che c'era prima della piscina c'era quello l'orologio di merda prima della piscina? e allora dobbiamo andare lì sì che c'era dove cazzo era però? perché qua abbiamo preso tutto lato destro lato destro Gina ok questi caricamenti qua ok attenzione c'è un cristiano questi caricamenti qua contribuivano un sacco all'ansia della questione perché te non sapevi cosa c'era dall'altra parte c'era questo caricamento dove non potevi fare nulla ah no sono un coglione stai dicendo questo eh sì raga proprio sbagliato tutto proprio sbagliato tutto quanto ok eh non dovevi andare là? no dove cazzo si doveva andare? di qua torno nell'atrio eh porco di... perché ci poteva andare solo uno lì tirando su quella cazzo di cosa tirando su lei eh ma no ma devi aspettare perché ce la lascio e adesso? se corro se corro sono il migliore che raga flash sperando che non ci siano i corvi io levo mi ricordo che gli avevano dato i colpi di coltello oh cazzo qua ci sono e rompono la minchia corri cristo ok ok la piscina abbiamo affondato lo stronzo eh vabbè sono uscito fuori ok io qua sono dove c'erano tutti gli ingranaggi della minchia tu era qua che intendevi no? sì ci sono nel mio paletto ci sono l'orologio lì esatto è un orologio dall'aspetto bestiale eh vai no raga però tasti di merda saranno dei video del cazzo perché io di continuo sono lì che tum 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 allora sto usando l'orologio è un orologio d'aspetto solido muovere le lancette sì e questo è un problema però non sappiamo l'ora immagino esatto e bisogna fare un attimo di brainstorming qua il codice successo sarà 8 e 15 sembra più un'ora giusto? allora se tu vai nel dice 8 e 15 8 e 2 punti 15 a me sembra un'ora il codice successo sarà 8 e 15 8 e un quarto tu vai nei file nel visual personale su file 2 no ma non serve mi fido andiamo a vedere tanto stavo andando a leggere quello 8 e 15 quindi vuol dire sposta la lancetta dei minuti ore sposta la lancetta delle ore a sinistra a sinistra 10 9 9 e 8 e 8 8 e fino a qui ci siamo dei minuti a destra vediamo se è giusto ok si è giusto molto bene sono un coglione sono andato troppo in là sono andato in mezzo perché sono deficiente si stanno aprendo tutte infatti dimmi che l'ha annullato ti aspetto perché qua bestiale c'è un mini video dove c'è una sinistra in fondo e una in alto allora andiamo a quella dell'azio va che mi sembra più facile per il momento tanto è lì esatto ma sai perché perché l'altra quella in basso c'è quel bastardo c'è quel bastardo di merda e quindi niente facciamo così perdiamo indietro dimmi quando ci sei 3 2 1 attenzione di sento sento che allora tu ti ricordi come si spara perché io orco di mazza e vabbè allora siamo calmi sto sperando un po' di munizioni ma bisogna ma quanti ce n'è ma ce n'è un botto raga gioca di squadra però sono morto sono morto vabbè tanto sto appena salvato adesso mi prendo fucile a pompa è morta lei più che altro stiamo finendo ok allora va bene non è andata molto bene questa situazione qua proprio per niente guarda lei è in pericolo eh io provo di caricare cioè sono morto quindi vabbè ma ci vado meno male meno male che ho salvato meno male me lo senti io trovato qua munizioni di fucine meno male abbiamo salvato è già un po' qua verso di una poesia la luna si inchina alla terra la terra giù una ferentà al sole ed è l'eterna legge del sole che governa sull'universo e questo è il fultro di ogni cosa il cammino verso la gloria le nostre braccia unite non potrebbero aprire le porte del paradiso pazzesco lo scaffale contiene delle robe pazzesche andiamo via e adesso ne abbiamo una là in fondo con quel bastardo di mezzo senza cura un problema io ho lui con il fucile lo mando avanti ammazzo quella bestia fatta di pianta ok è un'ottima un'ottima idea ok tu ci sei? sto leggendo quel file che ho letto prima la luna si inchina alla terra è l'universo ok ti l'hai preso comunque quel file quel minidisc che c'era davanti sopra il cammino sì 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 certo allora non ce ne fucile prendo sto andando pure io al latte o lascio lei indietro mi prendo sto facendo come fai tu è l'unica esatto io vado vado in avanza scoperta e se muoio ho un problema perché lei io ce lo supericolo lei non si deve muo ma è morta fondamentalmente che io bastardo di merda è però zio eh no non abbiamo capito se io ti sparo te devi morire ma cos'è un boss raga beppe è un problema non va giù non muore non è che quello va via sto andando in un intuito va via col fuoco non va giù sono supericolo magari vai giù col fuoco eh boh sono morto va bene provate a lanciare la molotov non la lancia e vabbè mi rifaccio un attimo qua provo a schivarlo direttamente secondo me non si può ce l'avevo già provato io l'ho schivato adesso è vero buttandomi tutto di lato effettivamente sono davanti alla porta schivarlo l'ho schivato eh boh boh raga però cazzo di telecamera di merda romperai il cazzo eh devo spararti esatto qua c'è gente eh ma no qua va liberato lo sai infatti la sto liberando va liberato perché perché qua tua madre c'è un video esatto c'è un video proiettore c'è per fare i microfilm della minchia ah dei colpi fai che riprendo ci possiamo mettere il cazzo io adesso mi faccio il gioco solo con lui siete morti raga si sono morti due colpi di più meno qua mi ridanno le munizioni sì però Beppe te non hai capito una cosa una cosa ora vai a riprendere i telefilm li andiamo a riprendere li andiamo a riprendere i microfilm eh lo so li andiamo a riprendere allora pagando qua in questa stessa ci sono solo i colpi vero? esatto boh c'è il proiettore i colpi allora allora ci ripetiamo beh tra l'altro neanche non pochi colpi però 30 si si ma infatti non li uso è così raga metterò il percazzo voi messaggine allora adesso schivo allora schivato ok ok suuca suuca ci fa lasciamo sempre le qua dentro perché cosa si fa ammazzare tipo in tre secondi da questo qua esatto allunga la minchia raga tantissima roba e quindi al suo punto si prende ah sai qual è il problema? eh dov'è l'altro microfilm? è per terra no il cazzo è su io devo ancora farla con la stanza lì te l'ho detto ci provo missione suicida sono davanti al proiettore quando sei di me lo dice eeeh volevi e a me l'ho preso bastardo però molto bene allora raga è un proiettore se solo avessi un microfilm se solo non fossi un coglione anche usa allora inizi da là guarda inserisci inserisci io li ho messi tutti e due 0 1 c'è una scritta sul lato superiore della foto dei sedili eh 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 perché prendere disco mobile outfitters ok eeeh ok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ok un'immagine risultante di microfilm A B pazzesca e fino a qui va bene raga ho capito basta ah nell'aula ci danno i numeri esatto allora ora devo tornare indietro senza morire sarà interessante esatto e poi non ci dobbiamo andare più in sto posto di merda quindi vaffanculo esatto eh dai va là oramai ho capito il trucchetto oramai ho capito ho capito il parterre di mosse chi mi ferma più eh quattro allora va bene gina scontra dobbiamo fare una questione qua dobbiamo proprio fare una roba devi darmi questa erba il problema sai qual è che l'erba da sola non fa un cazzo e questo è il problema e quindi ho paura di sprecarla addio il disco MO va messo nell'aula che mi pare una una console di zaccari dentro qualcosa ah andiamo sì mi ricordo male non mi ricordo male andiamo a mettere sto disco lei sta qua vado da solo più che altro io a sto punto farei con lei un salvataggio qua sopra perché no tanto siamo morti andiamo a ficcare sto floppy va adesso faccio un salvataggio security system please insert e non è quello non è questo lo dico aspetta sì now loading complete please input code 2D codice di accesso 2D non c'è alcun dispositivo di immissione nei paraggi allora e invece c'è però noi che codice dobbiamo mettere o devo scrivere 2D allora se devo fare 2D devo fare allora te lo dico io devo fare no o devo vederla dall'altro lato però Gina ti devi dare dal cazzo perché mi avevo spaccato i coglioni se 2D ascolta un po' senza io c'ho 0A ah bene eh no però c'è un problema a me non mi fa imputare una minchia è sì perché devi mettere nei banchetti mi pare no non me lo fa fare cioè rimane rosso però adesso mi sto incazzando a meno che il 2 non fosse questo perché quello era 1-0 oh esatto 2 ah è l'incontrario forse no 2 3 4 5 6 7 eh però raga mi state scassando la minchia no 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 stai lì ok allora porco maledetto sta foto di me levati dei coglioni file siamo calmi la D praticamente quella là ma come faccio a farlo veloce impossibile raga devo farlo con lei lei è più veloce per caso no forse dovete mettervi tutti e due nella stessa parte hai ragione hai ragione e te volevi lasciarla indietro esatto ma sono portata infatti allora raga dai due di 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 fa adesso si apriranno i cavalieri esatto una lì e questa non mi ricordo e tre addirittura c'è un problema io non mi ricordo dove sono tutte queste porte mai nella vita andiamo no sta andando ti sento allora siamo calmi ti sento anch'io le colpi le colpi ne ha si andiamo avanti lui eccolo lì uno è andato ammazziamo di così almeno giriamo eh sì in sto corridoio qua per forza non possiamo fare diversamente ma non c'è la botta di quello che gli cilindri in testa vaffanculo ok ok l'ho chiamato l'ho chiamato l'ho chiamato l'ho chiamato in testa ok perfetto allora qua c'è allora qua abbiamo due porte una grande una piccola andiamo prima in quella grande la prima che c'è ok fammi solo ricaricare la pistola qua ma no c***o munizioni sì vabbè ma non sembra esserci nessuno niente qua è una scacchiera chiaramente qua è riporta ci pisciamo addosso oh mado qua munizioni per il lanciacazzi in Cribbon granate al napalm ok poi c'è qualcosa che assomiglia a un dipinto vabbè raga stiamo cari in Cribbon è arrivato qua che fa critico artistico che fa di pre attraverso la finestra puoi scorgere un enorme lago il lago di Silent Hill raga conosci niente da leggere esatto esatto qua praticamente dobbiamo riprodurre la scacchiera grande come è fatta la scacchiera piccola ecco è già un casino ma a me sembra già uguale aspetta per esempio nero bianco nero bianco bianco è un po' nero bianco nero ah devo spostare questa qua lo dico io davanti a cazzo sì sì solo che è un bordello spostata perché ma va una stronzata beppe ah porto questo qui qua davanti un attimo ti devo tirar la minchia no no che hai fatto non lo fare non lo faccio minchia ho spostato una roba è uscito nel gas attenzione ma l'hai messa nel posto giusto o nel posto del cazzo no no io ho spostato per fare uno per fare uno spostamento allora va fatto beppe non è che semplicemente hai spostato la cosa sbagliata ti devi levar dal cazzo perché mi stai spaccando una minchia cioè devo mettere quella roba lì davanti però io ho bisogno di spaccio di manovra per farlo beppe è una stronzata di che cazzo di spazio hai bisogno io l'ho fatto ho fatto adesso sposti solo quello l'ho fatto finito devi spostare solo la regina che cazzo è sta cosa qua la regina io scacchi non lo so giocare beppe è una puntanata è una troiata sono andata a spostare di che cazzo ti sposti sono andata a spostare gli altri per avere immagine di manovra e immagine di manovra resident evil leggiamo un po' al libro libro del male vai aspetta c'è qualcos'altro qui viario di marcus 4 dicembre finalmente ci siamo riusciti abbiamo creato un nuovo virus gli abbiamo dato il nome di progenitore devo riportarlo indietro e avviare immediatamente le indagini accurate 23 marzo spencer che è quello della villa del primo ha detto che vuole costruirsi una società tutta sua ma a me non interessa l'importante è che io possa seguire le mie ricerche sul progenitore lui può fare il cazzo che vuole il 19 agosto spencer continua a propormi di diventare il direttore del suo nuovo centro di addestramento forse per le esigenze di questa nuova impresa ma la sua insistenza si sta facendo sempre più intollerabile ma forse potrei riuscire a sfruttare la situazione a mio vantaggio ho bisogno di un istituto speciale per analizzare come si deve ogni minimo particolare del virus di un posto in cui possa operare assolutamente indisturbato 30 novembre dannato spencer oggi si è venuto di nuovo a lamentare con me considera il progenitore solamente come un banale mezzo per fare quattrini che è incosciente ma se la sua autorità continua ad aumentare potrebbe rappresentare una serie minaccia al buon esito delle mie ricerche se voglio lavorare accuratamente allo sviluppo del progenitore è necessario che anche io consolido la mia posizione la mia posizione 19 settembre finalmente ho scoperto il metodo per generare un nuovo tipo di virus che abbia come base il progenitore la combinazione con l'RNA delle sanguissughe Pfizer si è rivelata una svolta davvero decisiva ho chiamato questo nuovo virus T che sta per tiranno Tyrant che sta per Tyrant 23 ottobre così non va raga non posso sperare in alcun progresso se continuo a fare i miei esperimenti solo sui roditori solamente l'uomo è la chiave ideale per gli esperimenti e per forza raga esatto ma infatti non c'è problema basta che fai gli open day non ho altra scelta se voglio ottenere dei progressi reali 15 novembre credo che qualcuno nutra dei sospetti nei confronti dei miei esperimenti ma forse lo sto solo immaginando beh se qualcuno dovesse mostrarsi un po' troppo interessato avrà la spiacevole sorpresa di assistermi nelle ricerche 13 gennaio finalmente sono pronte le mie meravigliose sanguisughe i più poveri di spirito non avranno mai l'onore di provare un tale sentimento di gioia e realizzazione ed ora posso finalmente agire contro Spencer penso che tutto sarà in mio potere 31 gennaio i dispositivi che avevo installato a protezione delle mie ricerche sono stati manomessi sembra che qualcuno sia venuto in cerca di informazione sul virus T e le sue sanguisughe povero piccio senza dubbio questa è opera della squadra di Spencer qua c'è Wesker di mezzo sicuro esatto 11 febbraio anche oggi ho trovato tracci inconfutabili di un nuovo tentativo di forzare l'entrata del laboratorio se questo è quello che vogliono devono assolutamente trovare la maniera per porvi rimedio forse dovrei affidare a William e Albert no sono qua William e Albert fanno parte il corpito di snidare gli intrusi sono loro gli unici di cui posso affidarmi ma l'eccezione delle mie amate siamo qui su ma Spencer non finirebbe lì certo che no annuncerò la scoperta del virus T alla prossima minuta in un anno di direttore in modo di ottenere i veritati consensi praticamente praticamente qua bisogna provare a mettere un po' in ordine le idee perché il discorso qual è? questi hanno scoperto il virus progenitore insieme cioè in realtà a parte che prima dimmi dimmi no solo che avevano idee diverse e quindi lui cosa si era fatto ha accettato sto posto per farsi i cazzi suoi qua fondamentalmente e non passa appena Spencer che cazzo stava facendo fondamentalmente esatto capito esatto praticamente ricordiamoci che Spencer è stato ispirato dal lavoro di Miranda nell'otto sì sì adesso lo sappiamo esatto che lui ha visto sta roba qua e ha detto guarda sai cosa in Africa ho trovato il virus progenitore quindi collegamento residentivo il 5 userò quello perché secondo me piuttosto che la muffa il virus si può diffondere più facilmente e va bene poi sono venuti qua hanno iniziato a fare i loro esperimenti due pionieri Marcus e Spencer praticamente Steve Jobs e l'altro come si chiama Bill Gates però appunto idee differenti una certa uno va da una parte uno va dall'altra questo ci ha provato con le sanguisughe direttamente perché è andata così ha scelto le sanguisughe e poi a quanto capisco a una certa però ha vinto Spencer in qualche maniera perché qua è andato tutto in malora vabbè scopriremo come fammi analizzare sto libro analizzare sto libro del mare esatto aprire il libro ma vedi te e dentro c'è l'ala di Cristo preso l'ala nera raga classico archetipo di Yu-Gi-Oh